Rieccoci qui al salone del risparmio 2019 sono in compagnia di Andrea Favero di iShares grazie per essere qui con noi grazie a voi allora parliamo del ruolo dell'indicizzazione sui prodotti core perché per voi può avere in ottica di asset allocation un grande valore Certo le logiche con cui guardiamo e costruiamo i portafogli stanno evolvendo sempre di più le diverse fasi del processo di investimento sono interagibili sono fungibili c'è un processo che è sempre più olistico e c'è sempre più chiarezza su quelli che sono i driver di performance di un portafoglio quanto è la parte che corrisponde all'esposizione al mercato quanto è l'esposizione ai fattori o stili di investimento e ancora quanto è il puro alfa anche gli strumenti nel corso degli ultimi anni quindi l'universo investibile è evoluto e molte asset class e stili di investimento sono ad oggi ottenibili tramite investimenti indicizzati questo ha portato numerosi investitori nel corso degli ultimi anni a prediligere questo tipo di esposizioni indicizzate anche nel core di portafoglio e questo ha due benefici principalmente uno è quello ovviamente di contenere i costi di questa parte di portafoglio ma al contempo anche quello di liberare risorse sia economiche che di rischio che di allocazione temporale da dedicare alla ricerca di gestori alfa veramente bravi veramente in grado di generare valore quindi andando ad efficientare il portafoglio nel suo complesso ci aspettiamo che questo trend continui nei prossimi anni ci aspettiamo che la penetrazione degli strumenti indicizzati sorpassi il 30% nel corso dei prossimi anni ovviamente gli etf stanno performando benissimo quindi su questo magari bypassiamo però anche il tema esg appartiene al mondo degli exchange traded funds ecco come si posiziona su questo i shares certo è un tema assolutamente caro a blackrock è caro poi all'offerta prodotti ai shares solo due settimane fa abbiamo ulteriormente ampliato la nostra gamma di strumenti esg con una nuova suite di strumenti cinque nuovi etf cosiddetti ennast che vanno ad aggiungersi a già numerose tipologie di esposizioni esg presenti in gamma per un totale di 28 etf esg nella nostra gamma quindi che fa una delle gamme più variegate a livello europeo ecco che se dal punto di vista accademico oramai c'è consenso nella bontà di un investimento esg soprattutto nel medio e lungo termine quindi performance e che sicuramente aggiustate per il rischio tendono a essere migliori rispetto ad indici tradizionali e ormai l'iesg tende ad essere equiparato a un tilt qualitativo dei portafogli ecco che data la varietà degli strumenti che oggi riusciamo a mettere a disposizione al cliente finale quindi dalla semplice se vogliamo esclusione di alcune aziende operanti in settori controversi ma questa viene fatta a costi uguali a prodotti più tradizionali ancora all'efficientamento anche in termini di riduzione dell'emissione di carbonio o ancora al premiare aziende più virtuose con la nostra gamma SRAI e quindi aziende che hanno un ESG rating più elevato ecco che l'ampiezza di queste possibilità che viene offerta all'investitore quasi ci fa invertire una domanda che se fino a qualche tempo fa era perché investire in ambito ESG forse la domanda da farsi in questo momento è perché non farlo Sembra che anche dal punto di vista degli investitori l'attenzione sia sempre maggiore e anzi tante delle ricerche che sono state anche presentate qui durante il Salone ma che BlackRock e i Shares anche comunicano costantemente lo testimoniano ulteriormente Io ringrazio nuovamente il nostro ospite per essere stato con noi non mi resta che lasciare la linea allo studio